non so se vado avanti la voglia è poca 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 Peccato che non ci sono ancora le videocamere col profumo Buon appetito! Ciao Pialangelo, sto beccato anche qua, ciao Rezzo Scommetto che c'è qualche tempo, eh? Sì, me li ha dati, me li ha dati, vanno? Me li ha dati e Luigi non fa fare Vanno tutti o due? Alberto, i libri di latino ce li ha ancora assorgiati, ce li ha ancora assorgiati sotto una carta Perché? È perché gli libri che fino a Mordenino mi ha aiutato Bì, bì, non scappare che sei su scherzo a parte Grazie a tutti Grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti